Quanto è stata emozionante questa serata da 1 a 10? Ma io sono abituato a arrampicare, quindi sono un uomo molto freddo, però da 1 a 10 era 11. Non l'ho lasciato vedere, ma era 11. E di cosa parla il suo libro? Il mio libro fa l'ipotesi che finisca il petrolio e l'uomo scopre che non sa più coltivare la terra, fare i lavori con le mani, in pratica salvarsi la pelle. Ci racconta in breve la sua storia? Io sono nato per accidente, non per amore e ho avuto una vita molto difficile, l'abbandono di mia madre, le botte di mio padre, ho rischiato l'alcolismo, la ribellione nell'alcol, quello che fanno anche i giovani di oggi. E la scrittura sinceramente mi ha aiutato a non precipitare del tutto. Poi ho fatto una famiglia anche, ma sono ancora a rischio comunque. Sì sì!